Salve a tutti amici sono Paolo Fiat e oggi vi voglio far vedere il mio orto come l'ho realizzato Allora partiamo da da prima molto prima che avete visto i video sul canale ovviamente adesso mi sposto per indicarvi bene l'orto Allora avete visto bene i video sul canale dove praticamente andavo a farvi vedere proprio diciamo dove le lavorazioni del terreno che ho fatto sul mio orto Quindi la lavorazione del terreno che è stata fatta quest'anno è stata fatta una aratura molto molto leggera interrando del letame Del residuo, i residui culturali che c'erano, quindi c'erano del residuo dello sporco sul terreno più del letame E' stato interrato con una aratura intorno ai 15-17 cm, insomma sotto i 20 cm Poi è stata fatta una estirpatura diciamo al terreno per andare a smuovere bene il terreno E poi sono state fatte due fresature, una fresatura normale dopo l'estirpatura Una fresatura normale per livellare il terreno e pareggiare il terreno Quindi avere un terreno pareggiato abbastanza livellato E poi un'altra fresatura per interrare del compost vegetale Poi una volta finito questo lavoro qui è stato lasciato stare l'orto a riposo E adesso stiamo eseguendo la preparazione del terreno Cosa abbiamo fatto con la preparazione del terreno? Abbiamo messo dello stallatico pellettato su tutto il terreno Che aveva un po' di stallatico pellettato Che mi serviva per bilanciare bene la concinazione del nostro orto Quindi portare bene degli elementi Poi una volta fatto questo lavoro è stato fatto semplicemente le prode Vedete sono due prode, una proda, aspettate che vi faccio vedere Una proda è lì col tela dove ci ho piantato i pomodori e poi ci arriviamo E un'altra proda è qua dove ci hanno messo melanzane e peperoni e peperoncini Le prode sono state fatte semplicemente facendo un solco in mezzo Un solchetto in mezzo, così diciamo un passaggio, un camminamento in mezzo E poi diciamo è stato tirato sulla terra La terra è stata portata sopra le due gombine, le due vanese, le due aiuole, le due prode Come volete chiamarle E niente ecco adesso mi manca l'ultima da fare che farò in questi giorni ovviamente E una volta fatto questa operazione è stato steso il tubo di irrigazione Il tubo di irrigazione che vedete qui Vedete qui diciamo vedete il tubo di irrigazione È un tubo forante autocompensato autoconfiante da 16 mm Quindi 16 mm compasso 30 Quindi a distanza tra i gocciatori 30 cm Questo tubo autocompensato ovviamente perché Perché io utilizzo acqua caduta da una cisterna Adesso sta andando l'acqua dei pomodori per caduta da una cisterna Ovviamente a caduta voglia che non c'è pressione Però comunque tutti i gocciatori mandano più o meno la stessa acqua Quindi quello è l'autocompensamento del tubo La cosa bella da dire di questi tubi qua Diciamo di questi tubi qua per caduta così È che non c'è tanta pressione e quindi l'acqua scende molto lentamente Quindi diciamo bisogna ovviamente dare molta più tempo Quindi se con una pressione ovviamente molto più alta di questa Diamo una mezz'ora di acqua e bagniamo bene E apportiamo tanti litri Comunque ci farebbero 4 litri ora Così invece fanno un litro ora In questa maniera calcolato da me più o meno Il bello è che così lasciamo molto più tempo aperta l'acqua Ovviamente è acqua di una cisterna Quindi non ci chiede pompe, non ci chiede pressione, non ci chiede niente L'acqua pian pianino cade e il pomodoro bagna Ovviamente i tubi vanno molto bene Comunque è un orto piccolo Quindi per quello anche a caduta va molto bene la cisterna Ecco se fosse stato molto più grande l'orto Mi serviva una pompa perché non ce la fa la cisterna E per caduta portare l'acqua ecco Io vedo che così funziona Vedo che comunque andando poca acqua va E sono molto soddisfatto Come ho fatto le prode? Le prode le ho fatte semplicissimo in questa maniera Ovviamente ho messo dello statatico pellettato Come stavo dicendo Poi ho fatto questo solco in mezzo col badile Poi la terra che ho buttato sopra L'ho livellata con un rastrello E niente Dopo ci andrò a mettere il telo sopra Adesso di qua Vedete che da questa parte qua così Vedete che da questa parte di qua C'è delle erbacce Insomma c'è da pulire Comunque pulirò con il cespugliatore E poi andrò a metterci sopra il telo Comunque non è un grosso problema Ecco L'impianto di irrigazione Ora faccio vedere un attimino come è fatto Molto semplice Comunque l'impianto di irrigazione C'è un video sul canale Lo trovate Adesso vi faccio vedere comunque L'impianto di irrigazione Scusate un attimo Che prende la candy Guardate quello qua Guardate Allora così è fatto Vedete Adesso vi faccio vedere Qua è quello Allora è semplicemente fatto così C'è Adesso vediamo Togliamo un po' di zoom Ok C'è semplicemente fatto così Vedete C'è un tubo Guardate C'è un tubo dritto di linea Che arriva Con due t Due t e due rubinetti Quindi due linee di acqua Ogni telo Ha due linee di acqua E questo l'ho messo Due linee di acqua Ho messo due fili Ovviamente ho messo due tubi così Per dare molta Diciamo dare acqua Più vicino alla pianta possibile Una volta ne usavo solo uno in mezzo Che ho visto che comunque Bisognava lasciare l'acqua aperta Molte più ore Bisognava dare molta più acqua E talvolta le piante soffrivano Perché non ricevevano l'acqua L'acqua sulla radice Ecco Quando le piante sono grandi Fra due mesi Un tubo basta solo Ma comunque adesso così via Poi comunque il bello È anche che possiamo Chiudere una linea Aprire un'altra linea Dipende da quello Che vogliamo fare noi Perché se vediamo Che una linea di pomodori Ha già ricevuto tanta acqua Noi cosa andremo a fare? Andremo a chiudere E lasceremo aperta quell'altra Però diciamo che così va molto bene La cosa ancora migliore Che io vi consiglierei Se state facendo un impianto di irrigazione adesso È andarvi a comprare Un tubo autogonfiante Autocompensante Però al posto che è da 30 cm Con la distanza da 30 cm Una distanza da 20 cm E voi mi direte Perché da 20 cm? Io vi dico da 20 cm Perché così riducete lo spazio E diciamo riducete lo spazio E quindi darete acqua più uniformemente Quindi avrete tutta una riga Tutta bella inumidita Ecco quindi avrete bene inumidita Da 30 cm può andare bene Per quelle culture Diciamo tipo cavoli Peperoni Melanzane Quelle robe larghe Ma generalmente io vi consiglio Se dovete farlo da zero Diciamo un impianto di irrigazione Vi consiglio di usare Ovviamente un Ovviamente vi consiglio di usare Diciamo un Come si dice Vi consiglio di usare Il tubo da 20 cm Se dovete comprare lo trovate anche su internet Scrivete tubi autocompensanti Tubi autoconfianti Autocompensanti Distanza a 20 cm E trovate benissimo anche tu I teli E ti scordate i tubi Poi una volta messo giù i due tubi Qui così Adesso metterò il secondo tubo Poi è stato messo il telo Il telo ovviamente Il telo ovviamente È un telo che utilizzo da parecchi anni Un telo plastico Ovviamente microforato Quindi quando ci piove sopra Oppure se volete Come ho fatto io Quando ho piantato i pomodori Gli ho dato acqua per sopra Così con la canna Ho inumidito bene L'acqua filtra giù Lentamente filtra giù Quindi non filtrando giù Velocemente non crea crosta sotto il telo La terra sotto rimane sempre bella umida E ovviamente non crescono gli infestanti E via dicendo Ecco Adesso si può fare anche una pacciamatura Sopra il telo Anche se io non lo faccio La cosa bella da dirvi È che ovviamente questo telo Che è già il quarto anno Quarto o quinto anno Che lo utilizzo Adesso non mi ricordo più Comunque già tanti anni È molto semplice anche da fissare Perché io lo metto così Lo tiro bene sopra la gombina E lo fisso con delle forchette Diciamo queste qui sarebbero le forchette Se le trovo Mi stavo dicendo Io le chiamo forchette Ma sono semplicemente Dei ferri ecco Che servono per Andare a fissare il telo Ecco Io li metto qui così Fisso il telo Li metto Una distanza di 3 metri 4 metri Uno dall'altro E fisso tutto quanto il mio telo Così il telo non si muove Ecco Cosa differente dal telo Diciamo quelli più degradabili Quelli che durano un anno È che Diciamo quelli che durano un anno Di solito Vengono interrati Viene fatto un solchetto Viene interrato qui 10 cm per parte E apposto la terra Questo interrarlo Con la terra Non avrebbe senso Perché Alla fine È comunque un telo Che viene recuperato E è molto più comodo Metterlo con queste Con questi diciamo Ferri a U O forchette O come volete chiamarli Voi diciamo Sono molto comodi Questi li ho Li ho acquistati Che li avevo utilizzati Per fare un giardino Su un giardino Li avevo utilizzati Per far mettere Parterra dei teli Per fare un Diciamo Un diserbo Biologico Quindi avevo messo Tutti i teli parterra Li avevo fermati con questi E poi mi sono rimasti Comunque questi qua È già il secondo anno Che li uso Sono veramente ottimi Non si rompono Sono resistenti Ma comunque potete farveli Anche come un film del fili ferro grosso Ve li piegate E ve li fate Ecco Niente Ricapitolando tutto Comunque Preparazione del terreno Arratura Sirpatura Fresatura Congenazione Lettame Stallatico pellettato E compost vegetale Poi facciamo le prode Quindi delle aiuole rialzate Delle gombine rialzate Mettiamo i due tubi Le due manichette sotto Mettiamo il telo pacciamante sopra E piantiamo le nostre culture Adesso che è caldo Così Dobbiamo stare dietro con l'acqua Quando piantiamo gli ortaggi Dobbiamo dare acqua Molta più acqua Di quello che ne chiederebbero normalmente Aumentiamo le nostre dosi di acqua Diamo tanta acqua Per cercare di far attecchire bene Le nostre piante I pomodori che ho piantato qui ovviamente Sono delle varietà sempre autoprodotte Non semente autoprodotta Diciamo Non tutta semente autoprodotta Comunque ho piantato di pomodori A grappolo neri Dopo ho piantato dei pomodori Diciamo costoluti Costoluto fiorentino Poi ho piantato dei classici pomodori Da conserva di San Marzano E in fondo ho piantato i pomodorini Ho fatto un miscuglio Per avere molte varietà diverse Da mangiare I pomodorini neri A grappolo Ve li consiglio tantissimo Tra l'altro un video anche sul canale Sono semente mia Che me la porta avanti Ormai da tanti anni Il classico pomodorino Ciliegino Per fare le insalate O qualsiasi cosa E poi abbiamo Diciamo il pomodoro Da salsa Da industria Il classico Cirio San Marzano Che è buono Che da mangiare così Oppure da fare essiccare E dopo abbiamo I nostri costoluti Che sono ottimi Da insalata Diciamo Da mangiare in insalata Ecco niente Perché quest'anno Il posto del cuore di buo Ho piantato il costoluto Diciamo Ho cambiato un po' Di varietà Così anche per provare Sperimentare Tanto nei nostri orti A noi non ci serve la quantità Ma ci interessa la qualità Quindi anche se sperimentiamo Alla fine i pomodori Mangiamo lo stesso E decidiamo dopo Anno dopo anno Che varietà è meglio Che varietà ci piace di più E quindi andiamo a piantare quelle Ecco Tanto noi non dobbiamo vendere Ma dobbiamo mangiarceli Ecco poi alla fine Quando saranno tutti quanti maturi Non saprò cosa fare Farò la passata Con tutti i pomodori Senza differenza di questo No Quell'altro no Utilizzerò il tutto E tutto quanto fa La passata Ecco variegata Niente Spero che questo video Vi sia stato tutto Per far vedere come ho fatto l'orto Era un video tecnico Dove vi parlavo Come ho fatto l'orto Ovviamente adesso metterò giù L'altro tubo di irrigazione Metto giù il telo Taglio prima un po' l'erba qui Metto il telo E niente Buon orto anche a tutti quanti voi Chi pianta Raccoglie Niente Da poi lo fiate è tutto Buona preparazione Dei vostri orti estivi Alla prossima